Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video, sono Lorenzo Campo, co-founder del progetto GOT Nation NFT. Finalmente ragazzi, ci siamo, progetto lanciato, progetto ufficialmente online, è possibile acquistare le nostre GOT per il momento solo per le persone in whitelist, quindi le persone che hanno avuto la possibilità di avere accesso in anteprima appunto all'acquisto delle nostre GOT. E oggi facciamo un po' di considerazioni, parliamo un po' di come è partito questo lancio, di quello che penso io, della visione che ho da qua a qualche giorno, da qua a qualche settimana, da qua a qualche mese e anno. Ok, quindi parliamo un po' di questo e facciamo chiarezza su alcuni aspetti e sottolineiamo neanche altri. Prima di iniziare con il video, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella perché chiaramente porto tanti altri video riguardo gli NFT, riguardo la blockchain in generale. Ne ho già messi tanti, quindi ti invito ad andarli a guardare, sto mettendo praticamente un corso graduro sugli NFT qui su YouTube, quindi diciamo che vale la pena seguirmi sia qui su Instagram che anche sui miei social, soprattutto Instagram e Twitter. Vi trovi come Lorenzo Campo22 e ti lascio qui sotto tutto in descrizione. Quindi, cosa andiamo a guardare in questo video? Innanzitutto andiamo a fare quello che di solito un imprenditore fa appena lancia un progetto, ovvero quello di analizzare. Cosa è molto importante, ragazzi, analizzare e cercare di capire cosa è andato bene, cosa si poteva fare meglio, cosa adesso avverrà, quali sono appunto le previsioni. Però, insomma, diciamo che in linea generale vi anticipo già che siamo molto, molto soddisfatti della risposta che avete dato, che hanno dato alle persone in whitelist. Allora, innanzitutto ricordiamo che questo è il sito ufficiale, goterotinonation.com, ve lo lascio qui sotto in descrizione anche così non vi sbagliate, mi raccomando. È veramente pieno di scam in giro, quindi non cliccate sul link non ufficiali, per favore, perché poi non riceverete assolutamente nulla. Quindi, allora, di cosa parliamo? Parliamo di un po', parliamo innanzitutto del Mint. Quindi Mint sarebbe quando tu, intanto mi metto di qua magari, ecco, quando tu lanci l'NFT, quindi quando tu effettivamente lo compri per la primissima volta, ok? E il Mint è partito ieri, oggi siamo al 27 aprile, il Mint è partito ieri praticamente, sì, 22 ore fa, ok? Ok? Mettiamola così, 22 ore fa. Quindi in 22 ore abbiamo venduto, qua sono quelle che rimangono, 2888 su 4444, quindi facendo un rapido calcolo sarebbero 1556 GOT, 1556 NFT venduti. E questo, secondo noi, già è un ottimo risultato, è già soltanto con questo, con quanto siamo, un quarto, un terzo, scusate, della collezione, siamo già a livello di volume, sicuramente il primo progetto in Italia e credo anche in Europa, poi adesso non li ho tutti davanti, ma in Italia di sicuro è il primo progetto. Quindi, prima analisi, diciamo che è stata già abbastanza positiva, perché le persone hanno risposto, ricordiamoci che noi stiamo, è vero che c'è anche, c'è tutto il sito web in inglese, che vabbè, si può passare in italiano qua, eccetera, però tutto il team, tutte le persone che, facciamo conto il 90% delle persone che erano, che sono nella community di Cotton Nation, sono italiane. Di conseguenza, un lancio così, non solo fatto dal team italiano, ma in Italia, non c'è dubbio che sia il più grande mai stato fatto finora. Quindi, su questo, sono molto, molto orgoglioso, molto, molto contento di questo risultato. Per quanto riguarda, invece, anche altre cose, vi ricordo che noi stiamo portando, io stesso, con il mio canale YouTube, ma anche con il canale YouTube di Cotton Nation, praticamente, dei contenuti che danno la possibilità alle persone di partire da zero e iniziare ad entrare in questo mondo, in questo mondo degli NFT. Ed è questo un po' quello che mi è piaciuto più di tutti, perché tantissime persone mi hanno scritto su Instagram, mi hanno taggato nelle storie, cose così, oppure scritto in privato dicendomi che questo è stato il loro primo NFT che hanno acquistato. Questo è un altro dato molto importante e che a me fa estremamente piacere, perché significa che stiamo espandendo il bacino d'utenza delle persone che stanno entrando in questo mondo e lo stanno facendo grazie e con Cotton Nation. Questa è una cosa che mi fa davvero, davvero piacere. Quindi questo, ovviamente, cosa comporta? Anche comporta il fatto che ci vuole un po' più di tempo. Infatti, il Mint, come è andato? Nelle prime, nella prima ora, nelle prime due ore, sono andati via i primi mille pezzi. Così che, tra l'altro, abbiamo avuto pure un mini bug, ragazzi, che non funzionava il tastino più. E c'è stato questo piccolo bug iniziale, però, ovviamente, tutto il resto funzionava. Quindi le persone ne hanno preso uno per volta e ad uno per volta sono andati via i primi mille, praticamente, subito. Infatti, noi neanche ce lo aspettavamo, perché non avevamo ancora dato il via, tra virgolette, al Mint. Stavamo aspettando di risolvere questo bug, però le persone sono entrate sul sito e hanno iniziato ad acquistare uno per volte i primi mille. Quelle erano le persone un po' più sgamate, magari le persone che già avevano esperienza col mondo della blockchain o magari degli NFT. E poi sono susseguite altre, praticamente, 800, se non sbaglio, sì, altre 800 persone nel corso della notte e di questa mattina che hanno acquistato poi l'NFT, che magari avevano bisogno di un po' più di tempo, e tante altre che l'acquisteranno da adesso in poi. Ok? Ricordiamo che ora c'è, vedete qui c'è scritto whitelisted round, quindi vuol dire che solo per gli utenti in whitelist è acquistabile. Non potete acquistarlo tutti, a prescindere, anche se non avete la whitelist. Quindi se provate ad entrare e vi dice che non potete accedere, sappiate perché, che è perché non avete la whitelist. Quindi su quello non preoccupatevi perché adesso chi è in whitelist ha ancora un po' di tempo, diciamo ha altre 24 ore a partire da adesso, non so adesso quando guardate questo video, però altre 24 ore, praticamente fino al 28, fino a pomeriggio, tardi, tardo del 28, del 28 aprile, e poi si aprirà a tutti gli effetti la Publix, dove tutti potranno mintare i restanti NFT, i restanti pezzi, finito chiaramente alla fine di 4.444. La cosa molto figa è anche questa, che guardando su OpenSea ci sono 591 owner, ok? 591 owner, facendo un calcolo, anche qui, abbastanza veloce, giusto per essere, diciamo, per essere precisi, 1556 diviso 591 fa 2.6, quindi vuol dire che la media di persone che hanno, di NFT che hanno ogni persona è 2,6 NFT a persona. E questo con un prezzo così alto, ricordiamo il prezzo di 1000 dollari, chiaramente giustificato dal fatto della collezione, di tutte le utilities, eccetera, cosa che non parlerò in questo video perché ho già fatto un video di mezz'ora dedicato solo al progetto e ti invito ad andare a vedere se ancora non l'hai fatto, dove spiego meglio, insomma, tutto quello che c'è dietro, i servizi, le persone, eccetera, eccetera. Quindi con un prezzo di 1000 dollari, prezzo più alto mai fatto, chiaramente come progetto NFT in Italia, ma più alto mai fatto di tanto, quindi, insomma, su quello, più che altro parlano i fatti, c'è la blockchain che è pubblica e non ho bisogno di dire altro, però vorrei trasmetterlo perché poi magari passa sempre un po' in secondo piano, diceva, vabbè, ecco, non sono andati sold out in 8 minuti e quindi il progetto non è niente di che, ma, cioè, noi in realtà, capiamoci, tracendo il fatto che, vabbè, abbiamo dato 48 ore di white risk, quindi sold out in 8 minuti era anche non, cioè, non voluto apposta, perché, che senso, andare sold out in 8 minuti, cioè, non era quello che volevamo, non è quello che vogliamo neanche, cioè, il sold out è una cosa in più, non è che noi stiamo puntando al sold out, stiamo strappando le vene per il sold out, noi abbiamo capito, cioè, vogliamo trasmettere quello che ci preme, trasmettere alle persone quello che è il nostro progetto e farlo capire a quante più persone possibili, perché ovviamente adesso entrare a 1000 dollari è un'opportunità, ok, come vedete, su queste persone qua, su 591, se andiamo su buy now, vediamo, più che su 591, su 1000, su 1500 e passa, quasi 1600 pezzi, 20, 20, l'hanno messo in vendita, e a prezzi comunque minimo di due tiri, un po' che vanno a 3,5, 3,5, 351, 5, 5, vabbè, eccetera, eccetera, però, 20 pezzi in vendita, su 1600 che sono stati inventati finora, ragazzi, questo, questo, dato qua, è forse il dato più importante, questo vuol dire che le persone che stanno entrando dentro, non stanno entrando dentro così tanto per non ho niente da fare, stanno entrando dentro perché hanno capito le potenzialità del progetto, e hanno capito che stando all'interno guadagnano molto di più che flippare l'NFT per farci un guadagno anche di 5.000 o 10.000 dollari, non è quello il punto, il punto è entrare dentro, e crescere sia finanziariamente che personalmente attraverso tutto quello che avrai, tutto quello che daremo e che avranno accesso le persone all'interno di Gottenation, ok? Quindi questa è la cosa che personalmente mi fa più felice in assoluto, 20, per ora ovviamente che sto aggisando questo video, 20 pezzi in vendita su 1600, questa è una cosa assurda e quindi vi ringrazio perché ovviamente questo lo decidete voi, non lo decidiamo noi, né io né il team, tanto meno, quindi su questo c'è solo che ringraziarvi e insomma farvi un applauso per aver capito effettivamente questo progetto. Ok, adesso siamo ai primi 591, non sono pochi, non sono troppi, c'è ancora tanto lavoro da fare, bisogna chiaramente anche finire questi altri 2888, noi non abbiamo fretta, abbiamo tutto oggi e tutto domani pomeriggio per i ragazzi in Wildris, poi apriremo la Public e quando si andrà a sold out, si andrà a sold out, chiaramente noi stiamo mettendo quanto più contenuto possibile online più che altro per, ripeto, far capire alle persone il progetto, poi andare a sold out oggi, domani o tra una settimana, ci cambia poco anche perché sappiamo già che andremo sold out, quindi è soltanto a livello di tempistiche, ma insomma veramente cambia poco anche perché la prima utility si è già pronta, che è appunto l'Accademia, la Mars Academy, adesso stiamo creando anche nel Discord la chat esclusiva soltanto per gli holder, dove appunto poi daremo accesso alla Mars Academy, di conseguenza sold out, non sold out, le persone avranno già accesso a tutto, quindi su quello non è un nostro problema, mi premeva più fare questo video per raccontarvi un po' la visione e analizzare insieme a voi come ogni imprenditore dovrebbe fare quando si lancia un progetto, quando fai un qualcosa, in modo analitico appunto tu capisci quello che è successo, dai chiaramente il giusto peso alle cose, ponderi le cose e poi tra le tue conclusioni, ok? Quindi ragazzi per questo video è tutto, se sei in whitelist e ancora non hai mintato, non hai preso il tuo GOT, mi raccomando fallo perché hai tempo fino a domani pomeriggio al 28 aprile, dopodiché se vuoi acquistare GOT Nation e sarà rimasto qualche pezzo potrai acquistarlo in public sale, sempre chiaramente sul sito che vi lascio qui sotto, ok? Quindi niente, per questo video è tutto, io direi che ho detto abbastanza cose, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se siete entrati in GOT Nation, se non siete entrati, insomma ditemi un po' quello che avete fatto e quello che avrete intenzione di fare, io vi saluto e ovviamente vi aspetto tutti, anzi non tutti, chi se lo merita e chi capisce all'interno di GOT Nation, quindi vi aspetto al prossimo video, che Vitalik sia con voi!